Sandro Federico, sicuramente dimenticare Pordenone, però anche riflettere sugli errori che sono stati commessi. Quali? L'approccio non è stato dei migliori e soprattutto l'atteggiamento generale di tutta la squadra. Ma a quattro giorni dalla fine, tre giorni dalla fine non possiamo stare lì a piangerci addosso e quindi cancellare immediatamente questa partita e pensare a quella di sabato che ci può portare alla salvezza. A proposito di salvezza diretta, passerà sicuramente, tre partite mancano per il Bonolis dove siamo adesso in questo momento. Due gare interne ed una trasferta in casa della Triestina. Cominciamo naturalmente dalla prossima partita sabato contro la Vispesaro che come voi ha un punto in più in classifica, però guarda con attenzione a questa gara. È il primo match point da affrontare con intelligenza. Partita molto delicata, sentita e quindi vorremmo passare un po' tutti una buona Pasqua e far star tranquilli anche i nostri tifosi. La città che sono anni che soffrono, che arrivano sempre all'ultima giornata con il patema. Allora vorremmo regalare questa salvezza in anticipo soprattutto a loro perché giustamente meritano anche loro un po' di tranquillità, oltre che noi. In caso di vittoria salireste a quota 42. A quel punto la salvezza sarebbe quasi archiviata, la salvezza diretta. Sì, penso che a 42 ci sia quasi la certezza. Poi possiamo comunque affrontare le prossime due Trieste e l'ultima in casa con la Ternana, anche con un pizzico di tranquillità e spensieratezza. Le caratteristiche di questa Vispesaro? Numeri alla mano, segna poco, appena 25 i gol all'attivo, però è la migliore difesa, la difesa top di tutto il girone. Appena 26 i gol incassati. Per vincere bisogna segnare. Assolutamente. Nel girone di ritorno, anche con l'arrivo di Infantino, lì davanti abbiamo qualche arma in più. La Vispesaro è una squadra ben allenata, una squadra organizzata, è riuscita a disputare un grande girone d'andata. Il girone di ritorno ha avuto una flessione con tanti pareggi e quindi è una squadra che ha creato difficoltà a tanti, ma se hanno un punto più di noi vuol dire che hanno gli stessi valori nostri.